Oggi è una giornata davvero importante perché è la conclusione di un lavoro che insieme alla mia segreteria, insieme ovviamente al mio ministro, il ministro Galletti, raccoglie un po' il lavoro di questi due anni. Abbiamo iniziato con la modifica e l'aggiornamento delle linee guida all'educazione ambientale che sono state pubblicate nel nostro sito a fine 2015 e domani si conclude un'altra tappa importante fra il ministro Galletti e la ministra Giannini per quanto riguarda la formazione dei formatori e quindi per quanto riguarda il ponistruzione. Quindi per me era particolarmente importante che voi che avete lavorato con me in questi due anni e che soprattutto avete lavorato sul territorio dando l'esempio con delle perle, le chiamo così, di educazione ambientale, riusciate a spiegare a quelli che sono i rapporter dei tavoli quanto di buono viene fatto sul nostro territorio affinché queste bellissime esperienze che vengono fatte a macchia di leopardo diventino invece sistema, diventino rete perché sempre più noi abbiamo la necessità di uniformare quello che di bello viene fatto sul nostro territorio e anche di copiarlo, perché no? Perché se è una cosa bella si deve anche copiare e diventi patrimonio comune. Io ho preparato due o tre slide per spiegarvi un po' che cosa ci aspettiamo da questa giornata, sono due o tre cose tecniche, non voglio rubare tempo ai lavori dei tavoli ai quali parteciperò davvero con grande piacere. Siamo partiti dalla necessità di creare una consapevolezza ambientale, sempre più c'è questa consapevolezza ambientale, lo vediamo anche sulle tematiche che riguardano la conoscenza delle singole parole, biodiversità era sconosciuta ai più, c'è un aumento esponenziale, dal 2010 la parola biodiversità è aumentata nell'ambito della conoscenza su 18 paesi, su 28 dei paesi europei. E sentivamo la necessità dopo 16 anni dalla conferenza di Genova di confrontarci, di scambiarci perché la nostra società è cambiata e quindi anche il modello educativo è completamente diverso. Quindi abbiamo una nuova richiesta, delle nuove domande di base. Abbiamo sentito come vi dicevo prima la necessità di una conferenza sull'educazione ambientale perché l'abbiamo visto anche, si è appena conclusa la COP22 a Marrakesh ma forse l'abbiamo più sentito con la chiusura della COP21 a Parigi e soprattutto con la firma del trattato di Parigi, le sfide ambientali sono le sfide di ogni giorno del nostro nuovo modo di vivere, del cambiamento che noi sentiamo necessario per quanto riguarda il nostro stile di vita. E soprattutto perché con gli accordi che abbiamo fatto all'Europei 2030 c'è la necessità di cambiare il nostro modo di fare economia e quindi è necessaria un'economia che rispetti all'ambiente. Su questo abbiamo cercato di lavorare soprattutto sul collegato ambientale e lavoreremo ancora di più sulle direttive dell'economia circolare a livello europeo. Come dicevo prima la nostra società si basa sempre più su interdipendenza e quindi vorrei sottolineare l'importanza dell'interdisciplinarietà dell'educazione ambientale. Non a caso ho chiesto che siano presenti e che lavorino con noi, molti sono qui, altri arriveranno più tardi, molti colleghi sottosegretari, in particolare voglio ringraziare Ilaria che è qui con me alla quale poi cederò la parola per un breve saluto. Allora, quello che vorremmo oggi non è tanto parlare tecnicamente dei singoli temi dell'educazione ambientale, ma vorremmo che noi cercare di creare un metodo, un modo di fare educazione ambientale partendo proprio dalle esperienze territoriali. E quindi l'esperienza che ci sono state nelle realtà locali, l'esperienza sistema. Sono presenti infatti alcune amministrazioni comunali importanti, sono presenti le regioni con i progetti in FEA, perché non si deve buttare via niente di quello che è stato fatto, ma si deve, partendo da quello che è stato fatto, cercare di darci una linea comune. E quindi di darci dei principi guida e delle priorità. Come dicevo, sono presenti istituzioni nazionali, internazionali, sono presenti imprese, perché non si può prescindere dalle imprese se noi vogliamo creare un nuovo modello di sviluppo. è presente la ricerca, la protezione ambientale, le organizzazioni non governative, le associazioni, le università e l'istituzione, perché noi non avremmo potuto fare questo lavoro se non avessimo lavorato a stretto contatto con il MIUR in particolare. Però consapevoli che di educazione ambientale non si può e non si deve parlare solo nelle scuole, ma lo si deve fare anche nell'ambito della società civile. Quindi andare a toccare anche attraverso la comunicazione, ringrazio i tanti giornalisti che sono presenti, tutti coloro che in qualche modo possono influenzare e aiutarci alla costruzione del nuovo modello educativo. Nel frattempo ringrazio Andrea Liviero che è qui presente, proprio a testimonianza di questa attività continua che facciamo fra colleghi e della interdisciplinarietà della materia ambientale. Ieri abbiamo festeggiato con lui la giornata nazionale dell'albero e delle foreste, anche qui con le scuole e devo dire che in questi anni la collaborazione è sempre stata davvero continua. Qui, come vedete in questa officina delle idee, come abbiamo voluto chiamare questa sala, abbiamo scelto 12 tavoli, un po' a significare i 12 mesi, cioè ogni mese abbiamo voluto in qualche modo tematizzare il percorso che voi state facendo al quale vi accingete poi ad entrare nel merito. Quindi i primi sei tavoli, biodiversità, agenda 2030, mobilità sostenibile, società civile, digitale comunicazione, ambiente e salute, economia circolare, turismo sostenibile, lotta e cambiamento climatico, città, gestione delle risorse naturali e spreco alimentare. Non è stato semplice collocarvi in un singolo tavolo, proprio perché come vi dicevo prima la materia è interdisciplinare e quindi molti di voi sono esperti in più tavoli. Se poi vorrete scambiarvi, ovviamente noi su questo saremo ovviamente d'accordo. È stata una divisione più di tipo organizzativo che non di scelta delle singole persone. Ogni tavolo, come dicevo, è gestito da gruppi di esperti, da rappresentanti delle istituzioni e da portatori di interesse. Poi tutto questo lavoro che voi state facendo, che avete già iniziato a fare perché i documenti so che vi sono arrivati in precedenza e quindi si discuterà già partendo da un brogliaccio che avete già avuto negli scorsi giorni, verrà poi rappresentato domani alla presenza dei due ministri nella assemblea che faremo domani nella sala. Questo non so neanche se sia dall'altra parte o se sia qui sotto. Ecco, dall'altra parte. Perché? Perché in quell'occasione i due ministri andranno a firmare quella che noi abbiamo definito la Carta di Roma, quello che voi produrrete alla fine della giornata, ma anche, come vi dicevo prima, un accordo fra di noi per la formazione dei formatori. Quello che ci serve proprio da voi sono i modelli educativi proprio perché dovremmo poi renderli efficaci nell'ambito della PON istruzione. Io volevo ringraziare i consorzi di filiera. I consorzi di filiera perché se noi abbiamo questi meravigliosi tavoli, queste meravigliose sedie, le riciclette e quant'altro, lo dobbiamo ai consorzi di filiera. Che devo dire? Che nell'ambito dell'educazione ambientale hanno svolto sul territorio un'opera meritoria di grande sensibilizzazione per la varia progettualità che fanno a livello scolastico. Concludo, così potete davvero iniziare il vostro lavoro, dicendo non ricominciamo da zero. Abbiamo un mondo ricco e vitale sull'educazione ambientale che è prezioso, che è prezioso sul nostro territorio nazionale, composto da educatori, da scuole, da associazioni, da enti, da istituzioni locali, regionali e dobbiamo dare a questa comunità nazionale un minimo comune denominatore. E quindi vi ringrazio davvero per quello che farete oggi, per essere qui presenti prima di tutto, per l'apporto che avete dato e soprattutto per l'apporto che darete. Diamo via al percorso di quella che è un'agenda di lavoro affinché l'educazione ambientale vada ad aggregare risorse culturali, organizzative ed economiche. Grazie per il lavoro che sta riportando.